Sono stati firmati oggi decreti di liquidazione da parte del vice commissario all'alluvione Stefano Babini per erogare i primi ristori alle famiglie alle imprese colpite dalle calamità ricadenti nel cerchio dei 16 comuni dei territori dell'Anconetano e del Pesarese colpiti dall'alluvione del 15 settembre. Le risorse sono state trasferite ai comuni che provvederanno a erogarle a famiglie e imprese così come prevede l'ordinanza 922 della Protezione Civile Nazionale. La somma totale dei decreti emessa è di 22 milioni e mezzo. Si tratta dei primi ristori per le famiglie e le imprese danneggiate nella terribile calamità che ha colpito il nostro territorio. Come previsto dall'ordinanza ai privati saranno destinati 5 mila euro e alle imprese 20 mila euro. Senigallia è il comune che beneficerà della maggior parte dei ristori con 12 milioni e 700 mila euro. Nel Pesarese Cantiano riceve invece quasi 2 milioni. Cifre inferiori al mezzo milione per Cagli, Pergola, Serra Sant'Abboglio, Frontone, Acqualagna. Domani 21 marzo aprì invece il bando regionale per la concessione del contributo ad auto e furgoni danneggiati durante la calamità naturale. Si tratta di una dotazione finanziaria di 2 milioni e mezzo di euro interamente stanziata da fondi regionali.